La Corte di Appello di Salerno ha dato ragione al ricorso promosso dalla Will contro la mancata assunzione di una neomamma di Novivelia, MC, queste le sue iniziali, che aveva chiesto di essere assunta presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il procedimento, che ora potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto, riguardava il reclutamento di personale ex articolo 42, legato al cosiddetto ricongiungimento familiare. Una condizione regolamentata dalla normativa nazionale, che viene a verificarsi nel momento in cui si richiede il trasferimento nella provincia in cui lavora anche il coniuge in presenza di un neonato in famiglia e con la possibilità della struttura interessata di reclutare nuovo personale. Protagonista della vicenda in particolare è l'operatrice sanitaria di Novivelia, che aveva chiesto di essere assunta dall'ospedale di Vallo per avvicinarsi al marito, a sua volta con un'occupazione in provincia di Salerno. Il ricorso fu presentato a dicembre 2015, dopo che l'ASL Salerno non concesse il nulla osta, adducendo come motivazione il fatto che non fosse possibile procedere con nuove assunzioni. In primo grado, nel marzo di quest'anno, non erano state accolte le motivazioni dei ricorrenti, ma questi ultimi da giugno erano al lavoro per l'appello, che invece ha avuto esito positivo, dando il via libera al trasferimento. La donna, peraltro, aveva usufruito dello stesso canale per usufruire dell'agevolazione quando era divenuta mamma per la prima volta, presentando poi la stessa richiesta dopo aver avuto il secondo figlio per lavorare al San Luca di Vallo, spostandosi dal San Carlo di Potenza. Un pronunciamento quello della Corte di Appello che potrebbe avere una reazione a catena, sbloccando, secondo la Will, oltre 100 casi simili in regione. La Will ci ha sempre creduto, dice il segretario Biagio Tomasco, e attraverso il legale Maurizio Marano ha impostato la querelle nelle sede giudiziarie, restituendo un diritto a tante madri.